Bilancio positivo per piazza affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela Tra le migliori blue chip di piazza affari, si muove in territorio positivo Exxor, mostrando un incremento dall'1,99%. Le peggiori performance si registrano su ST Macro Electronics, che ottiene meno 0,68% Sulla parità lo spread, che rimane a quota più 106 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56% Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciati i prezzi al consumo in Spagna, pari a 2,9%, e in Francia, dove il valore è 1,2% I mercati sono in attesa della fiducia consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio? Si attende dal Giappone la diffusione del PIL, previsto lunedì Si attende un avvio contrastato per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 15.063,5 punti